E' un peccato però, perché è strano come animale, non ti racconto come è fatto, vuoi? Qua c'ha come due occhi, no? Tondi, ma umani, quasi umani, e il mutuo è abbastanza nuovo come quello di un cane. Poi è una cosa strana, ma sai qual è? Sai qual è? E c'è anche dietro. Dietro? Dietro c'è? Lo posso dire? Dietro? 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 Leo, ti posso far una pregunta, una demanda? Si Por che tu miro sempre per a Aria? Io? Quando? Aria